ragazzi buon pomeriggio da Corridorio Nato Miki Croo buon mercoledì 17 novembre ragazzi a tutti e partiamo subito con lo shop di Fortnite di oggi ragazzi andiamo subito a vederlo nel dettaglio ed eccolo ed ecco che ancora presenti i band del Naruto e Kakashi ragazzi e Sasuke e Sakura ragazzi eccolo qua con la skin quello di Naruto Kakashi con la skin di Naruto e di Kakashi attacca i loro dorsi decorativi la schermata di caricamento il tutto 3000 WBAC ragazzi e il bundle invece Sasuke Sasuke e Sakura ragazzi 2200 invece che 3100 WBAC con i dorsi decorativi gli strumenti di raccolta e la schermata di caricamento il bundle attrezzatura Shinobi il costo per questi rimanente quattro oggetti è 1000 WBAC il bellissimo deltaplano ragazzi animale a 9 code sigillata dentro il Naruto Uzumaki ragazzi Kurama 1200 WBAC e la schermata di caricamento ovviamente le varie skin possono essere vendute separatamente ma è ovviamente il loro costo si alza ecco le motte le richiamo 300 WBAC bellissimo molto molto bella questa carina anche la pausa ramen 300 WBAC i vari picconi kunai falci di da espaldare parti speciali ed ecco che si aggiunge si sono aggiunti diverse skin una secondo me è bellissima ragazzi ETHERIA a me fa impazzia del set oasi caduta season 6 capitolo 2 abbinata al dorso decorativo spirito di cristallo ragazzi ETHERIA è fantastica 1200 WBAC per questa skin che secondo me le vale anche molto di più ecco lo strumento di raccolta parte 800 WBAC racchetta da battaglia cristallina ragazzi 800 WBAC un'altra skin molto bella è SOGIO SOGIO della luce rotta season 8 abbinata al dorso decorativo ala spezzata anch'essa 1200 WBAC ragazzi ecco la skin invece maschile del set interstellare season 8 luminosa ragazzi abbinata al dorso decorativo luce lunare 1500 WBAC il piccone acce astrale 1200 WBAC la copertura ragazzi a frammenti 500 WBAC e il deltaplano arcana 1200 WBAC e si passa a tutte le skin delle coccole lì la squadra delle coccole ragazzi 2000 WBAC abbinata al dorso decorativo arco coccola guardatelo guardatelo nel set fuori reali season 3 il deltaplano incrociatore coccoloso 800 WBAC ragazzi zampa coccola lo strumento di raccolta sempre 800 WBAC mi metti che coccola la copertura 300 WBAC ragazzi e il deltaplano beer force 1 ragazzi 1500 WBAC ed ora si passa un'altra skin carina venturio del set ventura season 4 ragazzi nei suoi due stili predefinito e malvagio 1500 WBAC abbinata al dorso decorativo mantello venturio ecco la donna ventura guardatela secondo me è più carina la donna sempre abbinata al dorso decorativo mantello ventura nei suoi due stili predefinito il mantello e ventura terribile così come la skin predefinito e malvagio ecco il piccone ragazzi aerodinamico 800 WBAC ragazzi e il deltaplano trionfo 500 WBAC ed ora si passa una skin volpe ragazzi fenlix potenza in pelliccia season x abbinata al dorso decorativo zaino volpino 1200 WBAC molto carina questa ed ecco acchiappamoschi 2000 WBAC abbinata al dorso decorativo acchiappamoschi a me non fa impazzire devo dire eh ragazzi 2000 WBAC questa skin ecco lo strumento di raccolta del self crypto collettivo season 2 capitolo 2 p codice 800 WBAC passiamo alla musica WBAC 200 WBAC della season x pacchetto bts e dynamite una mod divisa in due ragazzi guardatele tutte due 800 WBAC i'm diamond e dynamite e l'emote carina carina quando si cambia la sino ci sta siediti 200 WBAC mi piace molto molto carina questa ve la consiglio ragazzi ecco un emote rimane della marvel dark fenix molto bella lo strumento la schermata di caricamento pure nella fenice e il dorso decorativo forza della fenice 1500 WBAC per questa bellissima skin a parte le moto ascesa della fenice ragazzi 300 WBAC e infine rimangono tutti i pacchetti che c'erano anche prima quindi ve li faccio rivedere tutti i shopabili presso lo store non possono essere regalati maestri di magma 1499 il pacchetto lasco l'accesso salva al mole incarichi fino a 1000 WBAC 1599 il pacchetto leggende alla merita di forno ai 2999 con 1000 WBAC incluse il pacchetto incarichi a dynamo derby 11 euro e 99 guardatelo e infine il pacchetto riflessi oscuri a 15 euro e 99 ripeto tutti acquistabili e non si possono regalare vi faccio vedere una carrellata veloce di tutto quello che c'è nello shop ragazzi vi ricordo Naruto tutte le skin di Naruto che rimarranno immagino fino a fine season molto molto belli le moto quindi ve le consiglio e poi secondo me nello shop si due bellissime skin oltre a Naruto e ai suoi amici e te aia e te aia tanta 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 roba ragazzi e per me l'altra è sogno quindi le due skin che meritano di essere shopate ragazzi comunque lasciate un like al video ragazzi ed iscrivetevi al mio canale mi chicherò attivando ovviamente la campanellina e commentate i video ragazzi ci vediamo oggi presto in live sorpresa dove sorpresa dove non ve l'ho messo sulla community comunque seguite anche la mia community dove ci sono anche dei quesiti quindi partecipate partecipate entrate nella community mi raccomando mi raccomando quindi vi ripeto io mi chiamo Michele visitate il mio canale che si chiama MichiCrow MichiCrow M-I-K-Y staccato C-R-O tutto maiuscolo e vi ripeto partecipate al soldaggio sulla community mi raccomando ragazzi buona giornata Corredo Renato e MichiCrow vi vuole un mondo di bene a tutti a tutti a tutti i mille iscritti dai che siamo arrivati a mille ragazzi wow che forza che siete ragazzi ciao hey guys y y y y y y Grazie.